www.feyyaz.tv Tu, verga, siete un diavolo? Non sono un diavolo, sono un pittore. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Io non sono una buona figlia, ma io ho bisogno di essere libera. L'Europa è at work. Siamo la rivoluzione. Tu vuoi giustizia e pace per gli esseri umani. Ma che umani siamo se non proviamo compassione?